Una delle zone maggiormente devastate dall'alluvione del 15 settembre 2022 è Villa Giannini, questo complesso di Brugnetto di Senigallia risalente alle 1400 che 15 anni fa è stato ristrutturato e trasformato in un mini quartiere con 15 famiglie. Qui l'alluvione ha portato via e distrutto qualsiasi cosa e quella sera molti residenti hanno rischiato la vita. Ora si è proceduto con il progetto di vasche di espansione che però non solo non soddisfa i residenti, ma anzi li preoccupa molto perché la vicina vasca di espansione di Brugnetto è stata allargata a poche decine di metri dalle abitazioni. Noi ci siamo trovati quest'opera che sarebbe interessante che qualcuno ce la spiegasse ma che a mio parere ci ha solamente avvicinato il fiume a casa. Avete paura praticamente? Paura moltissima, al di là di quello che è successo ma questa cosa ci mette ancora più paura perché siamo in difficoltà nel credere che come l'acqua che è arrivata il 15 settembre possa essere difesa da questa opera che ci troviamo qua a fianco. Noi chiediamo sicurezza e un futuro anche per le nostre famiglie. Qui queste vasche sono a pochi metri da casa, non eravamo neanche a conoscenza e quindi le abbiamo viste venendo ogni tanto qui a controllare le nostre case ormai abbandonate da due anni e ci hanno sempre promesso un futuro migliore ma attualmente non lo vediamo. Ma voi adesso ce l'avete il coraggio di rientrare in casa? No, dal 2022 nessuno di noi ha il coraggio di rientrare ma soprattutto lo facciamo per le nostre donne, i nostri bambini. I residenti temono inoltre un esproprio e soprattutto si domandano se in quelle case potranno o meno rientrare. Noi stiamo fuori di casa, oggi siamo praticamente a due anni dall'evento, manca ormai poco più di un mese, ad oggi non sappiamo se possiamo rientrare perché fino ad oggi le parole sono state tante, potete rientrare, non potete rientrare, creeremo delle vasche di espansione e laminazione ma nessuno ci ha messo per iscritto quello che sarà il destino di quest'area. Noi vorremmo tornare a una normalità che ci è stata tolta da due anni. A distanza di due anni siamo stati anche troppo buoni rispetto ad altre persone quindi sono parole forti quelle che sto dicendo, siamo stati troppo buoni e quindi adesso è ora che qualcuno si prenda la responsabilità di dirci che fine faremo, di che morte moriremo.